Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla seconda parte di questa video-lezione sul caso di Anna O e la nascita della psicoanalisi. Nella prima parte abbiamo visto in generale qualcosa sull'isteria, su Anna O, cioè su Berta Pappenheim, sulla nascita della psicoanalisi e sul suo impatto nella storia della cultura occidentale europea. Nella seconda parte vedremo meglio, in questa seconda parte, il metodo catartico e come funziona durante la terapia a cui Anna viene sottoposta da Breuer. Ricordo che Anna fu paziente di Josef Breuer dal dicembre del 1880 a giugno del 1882. Ricordo che 13 anni dopo, nel 1895, vennero pubblicati gli studi sull'isteria che esaminavano 5 casi di cui il più importante è quello di Anna. L'importanza di questo caso diventa un modello per la terapia e la tecnica psicoanalitica, cioè lo sviluppo e l'evoluzione della tecnica psicoanalitica in qualche modo comincia con gli studi sull'isteria e soprattutto assume come modello paradigmatico il caso di Anna O. Le varie fasi di evoluzione della patologia di Anna possono essere indicate come incubazione latente, prima di tutto. Questa è la fase legata alla malattia del padre in cui Anna vive gli eventi traumatici che poi scateneranno tutta la complessa sintomatologia a cui essa sarà soggetta. Il padre di Anna si amara nel giugno dell'80, muore nel 5 dicembre dello stesso anno, già prima della morte del padre, compaiono i primi sintomi. Anna, a quell'epoca 21enne, si dedica, anima e corpo per così dire, alla cura del padre, lo accudisce e qui che abbiamo il costituiti di quella che Efra chiamerà poi la scena primaria, cioè l'ambientazione spazio-temporale nella quale si sviluppa il trauma o i traumi che poi daranno origine ai vari sintomi. Il trauma fondamentale è legato appunto alla malattia del padre, perché Anna accudisce il padre, ma contemporaneamente per lei vedere il padre che muore davanti ai suoi occhi determina angoscia e al tempo stesso prova disgusto e ribrezzo per certe manifestazioni della malattia e per certe attività con cui lei deve accudire il padre e al tempo stesso prova un forte senso di colpa per questo disgusto e quindi si sviluppa un rifiuto della situazione che suscita in lei determinate reazioni emotive che lei cerca di reprimere. Un caso esemplare è quello della tosse nervosa da cui Anna è affetta e Breuer scoprirà poi con il metodo catartico che questa tosse nervosa veniva utilizzata da Anna per autopunirsi, perché spesso accadeva che mentre accudiva il padre sentiva provenire da una casa vicino a una musica molto dolce e lei avrebbe voluto essere lì e allora la tosse nervosa era una sorta di autopunizione per questo sentimento che lei non riusciva ad accettare, rifiuto in qualche modo del padre. Utilizzeremo per meglio comprendere il metodo catartico e anche l'evoluzione della patologia di Anna questa mappa concettuale che ho realizzato con C-Map. Bene, abbiamo visto come l'origine dell'isteria è legata a una scena primaria e come questa scena primaria sia legata alla camera del padre e a ciò che accade all'interno di questa camera. Ci sono degli eventi, questi eventi sono traumatici per Anna, sono traumatici perché determinano in lei delle reazioni emotive di origine pulsionale, le pulsioni sono forze inconsce che si scatenano senza che noi le possiamo controllare e che mirano al soddisfacimento. Pensiamo alla fame, tanto per fare un esempio, che è uno stato di eccitazione dell'organismo che produce tensione, che può essere soddisfatta in relazione a un determinato oggetto, per esempio il cibo, che riporta l'organismo a uno stato di assenza di tensione e quindi la pulsione scaricata in qualche modo è anche la psiche torna a una situazione di equilibrio. Qui però siamo di fronte a che cosa? Siamo di fronte a reazioni emotive che non è possibile appagare perché contrastano, entrano in conflitto con quelle che sono le norme e i valori che noi, in questo caso che Anna, ha introiettato nella sua infanzia e nel corso della sua educazione. Quei codici comportamentali con cui noi ci identifichiamo è che tendono a classificare in comportamenti come comportamenti accettabili e inaccettabili. Per esempio è inaccettabile per Anna provare disgusto nell'acudire il padre o desiderare di essere in un altro luogo e per questo essa si autopunisce. Questi eventi, se sono molto forti, cioè se la reazione emotiva che l'evento scatena è molto forte e se il conflitto che innesca è un conflitto che è inaccettabile perché darebbe luogo a dei comportamenti considerati inaccettabili dal soggetto, può accadere sotto il meccanismo della censura. Che cos'è la censura? Che è un termine tecnico di quella che poi sarà alla teoria psicoanalitica che Freud elaborerà in un secondo momento. La censura è un dispositivo che noi utilizziamo inconsapevolmente e adottiamo quando la reazione emotiva di origine pulsionale di fronte a un evento viene considerata come inaccettabile, quindi produce vergogna, imbarazzo e orrore provare certi sentimenti e certe reazioni e perciò per difendere l'equilibrio psichico dell'individuo viene rimossa. Viene rimosso che cosa? L'evento e quindi il ricordo di quell'evento e viene rimossa anche la reazione emotiva e quindi la pulsione che sta alla base di quella reazione emotiva. Questo è un altro meccanismo, quello della rimozione, che Freud poi metterà a punto. Quindi censura e rimozione implicano il passaggio da livello conscio a livello inconscio di determinati eventi del loro ricordo e delle pulsioni che sono ad essi associate. Ora, questo ci porta a una prima considerazione importante che Freud svilupperà già in studi dell'isteria e poi svilupperà nelle opere successive e cioè che la psiche non è un blocco monolitico e compatto. La psiche è un sistema complesso caratterizzato da continui conflitti. La psiche è in continuo conflitto con se stessa e questo è il motivo primario da cui deriva l'ansietà e l'infelicità e la sofferenza sia nelle persone affette da patologie che nelle persone che non hanno nessun tipo di patologia. C'è una condizione normale, questa del conflitto della psiche e del resto. Già Platone nel Fedro utilizza la metafora del cocchio alato, quindi due cavalli, quello bianco e quello nero, e l'auriga che dirige il cocchio. Quindi anche per Platone, già per Platone, l'anima è un sistema complesso composto da varie stanze, cioè da vari elementi che non funzionano necessariamente in modo coordinato, tutti finalizzati e sottoposti a un unico fine, ma che tendono ciascuno a sviluppare delle finalità e degli obiettivi differenti che spesso entrano in conflitto. E quindi le isteriche, dice Freud, tramite i loro sintomi, che non hanno una base medica, cioè fisiologica, non dipendono da lesioni, disfunzioni fisiologiche, ma psicologiche, vogliono comunicare qualcosa con questi sintomi, ma non possono farlo in modo diretto. Vedremo adesso perché. Quando Breuer prende in cura Anna, Anna ha già molti sintomi, paralisi dell'arto destro, paralisi che poi si trasferisce all'arto sinistro, paralisi del collo, stati d'ansia, attacchi di panico, vuoti di memoria, in cui non ricordava proprio nulla, lei si lamentava di avere perso il suo tempo, sbalzi d'umore che portano anche a una sorta di sdoppiamento della personalità, in certi momenti Anna è tranquilla, accomodante, accondiscendente, in altri momenti reagisce in modo anche violento e aggressivo, sviluppando due vere e proprie personalità, ad un certo punto diventerà completamente muta, in seguito questo mutismo si trasformerà in una strana forma di comunicazione, per cui lei parlava, rispondeva in inglese, soltanto in inglese, senza rendersi conto che usava l'inglese quando le parlavano in tedesco, a Vienna, ovviamente, si parla in tedesco, ma Anna conosceva molte lingue. Il 5 dicembre dell'80, quando muore il padre, il più grave trauma psichico, ecco, dopo il 5 dicembre dell'80, si aggravano i sintomi a cui Anna è soggetta. Per esempio, a un certo punto cominciano gli episodi di glossolalia, nel senso che non solo ci sono errori di grammatica, non riesce più a ricordare i nomi delle persone, inverte le parole nella frase, ma, per esempio, costruisce delle frasi mescolando parole di lingue completamente diverse, e Freud segnava tutto. Chiedo scusa a Breuer, naturalmente, Freud non l'ebbe mai in terapia. La cura di Breuer si sviluppava attraverso degli incontri serali in cui, ad un certo punto, la sottopone ad ipnosi. Ma vediamo questi sintomi, che cosa rappresentano. Bene, eravamo rimasti alla rimozione delle pulsioni, o delle emozioni, con cui Anna reagiva a degli eventi traumatici, e quindi questi episodi vengono dimenticati. Ma la pulsione non cessa per il fatto di essere stata rimossa, continua a esistere a livello inconscio, e continua a premere per sfogarsi, per trovare, cioè a pagamento. E' il cosiddetto ritorno del rimosso. In una delle conferenze americane, delle cinque conferenze americane, Freud dirà, è come se una persona disturbasse mentre io parlo, allora viene cacciata dalla sala conferenze, e questo è la censura. Poi la persona però sbatte sulla porta, dà pugni sulla porta, eccetera, perché vuole rientrare, gli si impedisce di rientrare bloccando la porta, questa è la resistenza. Quindi c'è una resistenza. Altro meccanismo della complessa dinamica della vita psichica, la resistenza mira a impedire che il rimosso ritorni, cioè che quegli eventi traumatici, loro ricordo, e che quelle pulsioni legate a quegli eventi ritornino a livello conscio, perché questo provocherebbe, destabilizzerebbe il soggetto, provocherebbe in lui angoscia, e quindi un meccanismo di difesa, la resistenza. Ma naturalmente, in qualche modo, la pulsione continua a premere, e si esprime in modo indiretto e simbolico, è la cosiddetta isteria da conversione, nel senso che dà luogo la pulsione e la sua pressione per riemergere, dà luogo a dei sintomi che si possono localizzare in vari organi del corpo, avendo un rapporto simbolico con l'evento scatenante. Facciamo l'esempio classico, che forse molti già conoscono, Anna ad un certo punto vede la sua dama di compagnia, la sua dama inglese di compagnia, che fa bere al suo cagnolino l'acqua da un bicchiere d'acqua, cosa che non si sarebbe dovuta fare. Questo provoca una forte reazione in Anna, che vorrebbe esternare ed esprimere il suo disgusto, la sua rabbia, rimproverare magari la dama di compagnia, ma non lo fa, non lo fa perché una brava ragazza non lo deve fare, cioè non lo fa perché verrebbe meno alle regole di educazione che le sono state inculcate e quindi non potendo dar sfogo alla reazione emotiva legata a questo evento, entra in funzione il meccanismo della censura, perché questo conflitto Anna non riesce a gestirlo e viene rimosso. Viene rimosso, ma ecco che per sei settimane, se non sbaglio, Anna rifiuta di bere. Solleva il bicchiere, se lo porta alla bocca e poi lo poggia giù. Non ci riesce, tanto perché deve essere dissettata con la frutta, frutta molto succosa, perché non riusciva a bere l'acqua. Questa è la situazione tipica che si viene a creare dopo la rimozione, con il ritorno del rimosso come simbolo. E quindi questo ci fa capire come l'analisi diventa una sorta di dispositivo d'ascolto. L'analista deve ascoltare il suo paziente per capire il rapporto simbolico che lega il sintomo all'evento traumatico che lo ha scatenato. In Anna si presenteranno tanti altri sintomi, visioni, per esempio, vedeva cose molto negative, teschi, scheletri, a un certo punto comincia a vedere i capelli delle persone o tutto ciò che è filiforme, che sono nastri, come serpenti, quindi delle vere e proprie allucinazioni. Soffre di agorafobia e di claustrofobia, le sembra che tutto le caschi addosso. Insomma, sono sintomi piuttosto gravi e quasi tutti sono stati scatenati nel periodo di incubazione e sono collegati direttamente o indirettamente a quella che è la scena primaria. Bene, ad un certo punto della terapia, come dicevamo, entra in funzione il cosiddetto metodo catartico, catarsi purificazione, legato, come dicevamo, nella prima parte di questa lezione, a un termine che Aristotele utilizza nella poetica. Purificare l'animo da quelle condizioni emotive, passionali, di sofferenza, di angoscia o di violenza, insomma, da quelle forti pulsioni che ci travolgono. Ebbene, cosa accade? Accade che, ipnotizzando Anna la sera, Breuer, fa sì che Anna cala in quello che potremmo definire lo stato ipnoide. Nello stato ipnoide che cosa succede? Succede che il soggetto vede i suoi meccanismi di censura e soprattutto di resistenza indeboliti. È un po' come capita nel sogno, non per niente il sogno è la via regia per conoscere l'inconscio. Nel sogno i meccanismi di difesa proprio perché non siamo nello stato di sveglia, non siamo pienamente consapevoli, continuano a esistere, però sono più deboli e quindi è più facile che il soggetto ricordi o riviva determinate situazioni e provi nuovamente determinate emozioni. E infatti nello stato ipnoide Anna rivive le esperienze, rivive molti degli eventi traumatici che avevano dato luogo ai vari sintomi. Per esempio nel caso del cagnolino della dama che beve dal bicchiere d'acqua Anna rivive la scena, stiamo attenti, non è che la ricorda, la rivive, un po' come nel sogno noi viviamo in prima persona ciò che accade, come se fosse reale, non è che ci stiamo immedesimando come capita in un film, in un altro personaggio, ma stiamo vivendo direttamente la scena, in presa diretta per così dire. Ecco, Anna rivive, cioè riprova tutte quelle emozioni che aveva provato in quel momento e dato che i meccanismi di censura sono indeboliti perché Anna è nello stato ipnoide, la situazione patogena che viene rivissuta dà luogo alla scarica emotiva, cioè quella emozione, quella reazione emotiva che Anna approva non viene soffocata e repressa dalla censura, ma Anna dà sfogo a questa emozione negativa che aveva avuto. E' questo che Freud definisce, Freud e Broglie, definiscono abreazione. Il soggetto che rivive lo stato patogeno questa volta reagisce da sfogo all'emozione, cosa che non aveva fatto al momento in cui era realmente accaduta la scena, realmente accaduto l'evento, ecco perché Freud usa il termine abreazione, vuol dire reagire dopo, è una reazione che avviene settimane dopo l'evento. Quindi il soggetto si libera di questa emozione e l'effetto terapeutico qual è? Bene, questa liberazione è un effetto terapeutico, il fatto che Anna riviva e sfoghi durante l'ipnosi questa emozione fa sì che la pulsione trovi sfogo e quindi la pulsione scompare, ha trovato sfogo, noi mangiamo, scompare lo stimolo della fame e scomparendo la pulsione scompare anche il sintomo che altro non era che la traduzione a livello organico di quella che era la pulsione seppure con un rapporto simbolico che si esprimeva con l'idrofobia, il rifiuto dell'acqua. Ecco perché Freud arriva a dire che le isteriche soffrono di reminiscenze, cioè di ricordi. L'ultima fase dopo quella di incubazione della malattia conclamata e della terapia è la fase in cui diciamo così anche i sintomi più cronici vengono ad essere curati perché Breuer o ipnotizzava Anna o scriveva tutte le visioni che Anna riusciva a raccontargli e man mano i sintomi scompaiono fino al 1882 quando cessa la cura. In realtà poi Anna ricadrà diverse volte, avrà delle ricadute, diverse ricadute, solo intorno a 1880 89-90 supererà definitivamente questa situazione patologica diciamo quando si dedicherà completamente alla sua attività di impegno politico sociale nei confronti degli orfani, delle donne e così via. Freud poi analizzerà il caso di Anna ci sono tante altre cose da dire per esempio perché Breuer ad un certo punto interrompe la terapia dai verbali e dalla documentazione di Breuer non ricaviamo alcuna indicazione di questo tipo mentre Freud dà tutta una serie di informazioni che non sono contenute nelle carte di Breuer quindi non sappiamo fino a che punto come dire rispondano perfettamente a verità non conosciamo il punto di vista di Breuer quello che ci dice Freud che lo ha saputo indirettamente di seconda mano diciamo da Breuer è che Anna a un certo punto comincia a sviluppare una forte dipendenza da Breuer e tende a proiettare su Breuer quell'amore quindi quelle pulsioni libidiche che originariamente erano indirizzate al padre questo trasferimento nei confronti di Breuer delle pulsioni libidiche fa sì che Anna si inamori tra virgolette di Breuer di fronte a questo intenso attaccamento del paziente Breuer non sa come reagire non sa come interpretarlo si spaventa in un certo senso e chiude la terapia con Anna questo almeno è quello che più o meno ci dice Freud e che Freud spiegherà spiega poi col complesso di Edipo cioè l'innamoramento le pulsioni sessuali diciamo utilizzate nell'infanzia nei confronti del genitore di sesso opposto è la rivalità con cui si vive il rapporto con il genitore del proprio stesso sesso ma insomma questo è piuttosto complesso è meglio vederlo collocato nell'ambito dell'evoluzione della sessualità però il transfer cioè questo trasferimento questa proiezione di questi sentimenti di queste pulsioni nei confronti dell'analista è soprattutto ciò che secondo la testimonianza di Freud spaventa Breuer mentre secondo Freud è molto importante è molto importante perché è uno dei principali fattori che permettono la guarigione sia perché l'analista acquista così un grande potere nei confronti del paziente che deve saper gestire sia perché grazie al transfert alla passione di transfert sarà possibile arrivare al suo superamento dato che Freud individuerà in questa passione nei confronti del padre una delle cause fondamentali della patologia dell'isteria ma anche questo diciamo così è un altro discorso uno dei momenti finali e decisivi della terapia a cui fu sottoposta Anna che in qualche modo venne interpretato da Freud e Breuer come la guarigione finale fu l'aver ricostruito la scena primaria cioè aver ricostruito quella che era l'organizzazione spazio-temporale dell'ambiente in cui Anna si trova collocata e con cui Anna si rapporta al momento in cui comincia a incubare la malattia la camera del padre viene ricostruita la camera del padre esattamente come era quando il padre era malato e questa fu una delle mosse terapeutiche vincenti per far sì che Anna superasse il trauma della scena primaria il trauma originario insomma la morte del genitore bene sappiamo poi che Freud abbandonerà il metodo dell'ipnosi di cui non si fidava per tanti motivi e utilizzerà altri metodi come quello delle libere associazioni del sogno degli atti mancati e così via vorrei concludere dando alcune indicazioni su alcuni materiali risorse che si possono utilizzare per approfondire il caso di Anna e la sua incidenza nella formazione dei concetti base della psicoanalisi non abbiamo parlato di tante cose che però in qualche modo sono implicite nel caso di Anna o comunque si svilupperanno a partire da una riflessione che viene avviata dal caso di Anna Bene consiglio le brevi video lezioni di Laura Pirotta si tratta addirittura di 64 video lezioni di psicologia dinamica e le prime 33 sono tutte dedicate alla psicoanalisi sono molto brevi a differenza di queste lunghissime lezioni che ho preparato io molto brevi molto chiare ciascuna di esse è dedicata a un argomento che sono l'inconscio la rimozione la censura e lo spiega in modo veramente chiaro Laura Pirotta è una brava psicologa un'ottima insegnante e formatrice che è un proprio canale YouTube poi Stefano Mistura psichiatra medico psicologo che in questo video parla di Freud della nascita della psicanalisi in termini molto generali e quindi è molto interessante anche in relazione al caso di Anna O poi la mappa concettuale che abbiamo appena utilizzato che trovate a questo link e infine un testo che narra la vicenda di Anna O che vi faccio vedere è un testo che è stato realizzato da alcuni studenti che ho trovato in rete ma adesso non trovo più non esiste più ecco questo era il vecchio link l'istituto Copernico probabilmente ho cercato anche so che è stato realizzato una certa Ilaria Coronelli è sempre giusto citare gli autori di una certa classe quinta B ma non c'è più online questo testo io l'avevo scaricato e qui trovate 5 pagine più un mio breve scritto sul metodo catartico trovate tante altre cose ma io ho messo online appunto questi due penso questi due elementi poi scusate ricordo che questa presentazione con tutti i link sarà resa disponibile nel box descrittivo del video quando io lo pubblicherò su Youtube vi ringrazio per la pazienza spero che possa essere utile agli studenti alle studentesse ai docenti ai colleghi vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per la pazienza e vi ringrazio per la pazienza